Dopo due anni di pausa, dovuta alla situazione pandemica, è tornato il carnevale più antico, esplosivo e dolce d'Italia. Domenica mattina sono stati centinaia i bambini che, accompagnati dai propri familiari e dagli insegnanti, hanno invaso Viale Gramsci. Un mix di colori, musica e voglia di ripartenza sono stati gli elementi che hanno caratterizzato il clima della bellissima mattinata, spensierata e gioiosa. Protagoniste le scuole, in totale 29 classi delle scuola primaria, due gruppi di scuola secondaria di primo grado, una scuola dell'infanzia e una scuola parentale, che hanno partecipato con tanto impegno ed un incontenibile entusiasmo alle attività legate alla manifestazione, che ogni anno coinvolge migliaia di visitatori. Stamattina che cosa rappresentate quel carnevale? Il nostro titolo è Dalla notte stellata all'alba di un nuovo inizio, proprio per augurare loro di avere una vita lunga, felice e anche dopo questo periodo così di chiusura vogliamo ridare una spinta al coraggio, alla forza, alla ripresa, a riprendersi la vita in mano. Che cosa rappresentate con queste maschere? Prendendo il nostro titolo è arte o stile, quindi giochiamo su questo lo stile dell'arte o l'arte come ostile agli avvenimenti che comunque non si condividono, quindi l'arte come ostilità a qualcosa, come propaganda. Grande coinvolgimento dei ragazzi con questo progetto scuola carnevale. Extra scolastico, pomeridiano, c'è stata una bella partecipazione di tutti i ragazzi. I ragazzi sono stati contenti? Allora, il progetto soprattutto è volto a quei ragazzi che hanno bisogno di esprimersi anche attraverso altre modalità, altri canali e quindi è stato un progetto molto efficace che li ha fatti lavorare in gruppo e li ha molto motivati in questo lavoro. Abbiamo aderito al progetto che l'ente carnevalesca ci ha proposto e poi è nato un po' da loro insieme con l'esperto che è stato inviato presso la nostra scuola lavorare appunto sulla pace e sulla guerra. Quindi i ragazzi hanno lavorato sul quadro del Garnica di Picasso e nel retro avrete modo di vedere come loro invece hanno voluto rivedere la pace. Abbiamo lavorato più o meno da metà dicembre fino ai giorni scorsi. Noi rappresentiamo Animal Art, gli animali nell'arte e quindi nella fantasia dei bambini, nella mente dei bambini. Rappresentano qualsiasi, la tigre, falco, lupo, l'aquila e il drago. Siamo veramente molto ma molto contenti perché è un'esperienza per me più unica che rara, proprio irripetibile io devo dirvi sì. Quanto tempo avete messo per preparare le mascherate? Questo abbiamo impiegato almeno due mesi. Abbiamo lavorato con Kandinsky e il suono dei colori, della sua musica e dell'arte che si sono incrociati in una danza che noi speriamo di rappresentare. Due classi terze e rappresentiamo il cubismo di Picasso. Quanto tempo avete impiegato per fare queste mascherate? È un mesetto anche grazie all'intervento dell'esperta della Carnevalesca che è stata molto collaborativa, è proprio un apporto prezioso. È molto positivo questa cosa tra... Sotto soddisfatti e ovviamente in primisi i bambini. Alla fine della sfilata tutti a ballare sul palco allestito in piazza 20 Settembre in un clima di divertimento per piccoli e grandi.